amici di nextectioncam.it come avevo anticipato ecco da parte di SJCAM direttamente da parte di SJCAM ringraziamo SJCAM per questa concessione che ci ha voluto fare credo che questa sia la prima 360 plus che arriva in italia eccola qui scatola grande ma scatoletta piccola ecco qui la 360 dual lens qui le caratteristiche tecniche prossimamente poi faremo il nostro la nostra recensione e tutte le prove sul su questa CAM eccola qui dual lens la confezione è molto basilare la CAM tipo stiraccendino c'è uno stick che fa anche da impugnatura e può anche essere usato come trappiede all'interno lo troviamo un cavetto micro sb un laccetto da polso e la custodia per riporla all'interno per riparare due lenti e due manualetti con tutti i link da seguire eventualmente e qui i due qr code per scaricare sia per iOS sia per Android la l'applicazione che si chiama SJCAM Pano se non mi vado errato bene questo è tutto io vi do appuntamento per la recensione vera e propria questo è stato l'unboxing della SJCAM 360 plus da parte di SJCAM direttamente a noi grazie e arrivederci